Ciao, sono Silvia. Come sapete sono volontaria per l'associazione Mission Bambini da molti anni ormai. Ho partecipato a diversi banchetti, sono stata in Africa a visitare un progetto, ma quest'anno voglio fare molto di più. Voglio raccogliere fondi per far battere il cuore di un bambino. Per favore, aiutatemi. Grazie!